Esiste un modo per capire se conviene investire su Bitcoin oppure nelle stocks americane, sui mercati old. Esiste un modo di natura non soggettiva, non opinabile, un modo che possiamo definire quantitativo, quindi un dato, un grafico, un indicatore che possiamo utilizzare per capire se conviene investire sulle criptovalute, su Bitcoin in particolar modo, oppure nell'S&P 500? Bene, ciao a tutti! Oggi in questo video rispondiamo a questo quesito di asset allocation, cioè decidere quale strumento finanziario andare ad utilizzare dove allocare i nostri investimenti e farlo in maniera non soggettiva, ma c'è un modo in cui noi possiamo andare anche a fare un'analisi su un indicatore grafico, quindi un'analisi quantitativa che ci dà una serie di risposte alle fatidiche domande, la correlazione sì, correlazione no, ad esempio, oppure è meglio investire nelle stocks oppure su Bitcoin, e soprattutto il timing, quando è meglio investire su Bitcoin, oppure anche una famosa risposta alla domanda più comune, Bitcoin è il numero uno degli asset sì o no. Bene ragazzi, vi ho preparato un nuovo, un nuovo grafico da tenere nel nostro cassetto da analisti che andremo a guardare oggi a fare una serie di considerazioni, sia di analisi tecnica, un poco poco anche di analisi ciclica, per farvi alla fine capire anche qual è il livello su questo grafico che dobbiamo attendere per capire se sta iniziando una nuova bull run anche su Bitcoin. Sì, lo so, sono tante informazioni, tutte sintetizzate in questo grafico, che vi spiego anche come si crea, lo potete fare tranquillamente anche voi sulla vostra piattaforma TradingView. Ma prima di andare ad analizzare il grafico, prima di passare sui grafici, come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciatemi un pollicione, un grande mi piace per aiutarmi con l'algoritmo di YouTube. Ma poi ragazzi, fatemi sapere anche voi di questi indicatori, se li usate, non li usate, cosa ne pensate e qual è la vostra idea, meglio S&P 500 o meglio Bitcoin? Bene, spostiamoci sui grafici. Ok, siamo qui davanti da un punto di vista grafico a un nuovo indicatore. Che cos'è questo indicatore? Ora ve lo faccio vedere così e dopo ve lo spiego perché è importante capire che cos'è. Allora ragazzi, questo è un grafico che è composto da due grafici. In pratica è il prezzo dello Standard & Poor's 500 diviso quello di Bitcoin. Cioè è il rapporto come se noi usassimo Standard & Poor's 500 come una valuta e quindi come se facciamo Ethereum su Bitcoin. Il rapporto, ragazzi, di cambio, quindi le quotazioni, i rapporti fra le quotazioni del S&P 500 diviso Bitcoin. Essendo Bitcoin al denominatore, capite bene ragazzi che questo grafico è terribilmente ribassista. Questo significa che Bitcoin è più forte di Standard & Poor's 500 o almeno lo è stato negli anni passati. Come si va a creare? Allora andate sulla barra della ricerca degli strumenti di TradingView e qui scrivete S&P. Quindi vi appare, io uso sempre il future, quindi S&P futures di CME Globex e usiamo il continuo, il grafico continuo del future. Lo vedete così, queste sono le mie indicazioni. Poi fate una barra del divisor, quella sopra il 7 in pratica, e mettete il Bitcoin che volete utilizzare. Io uso quello di Bitstamp in questo caso perché ha un data feed, quindi un database più ampio di dati storici. Io lo sto usando in maniera logaritmica, potete usarlo anche così, ma vedete che insomma ci sono notevoli differenze, quindi non conviene usarlo in questo modo. Va bene, allora quindi si crea così questo grafico, adesso andiamo a fare le nostre analisi e le nostre considerazioni. Cosa ci dice un'analisi grafica fatta su questo tipo di strumento? Allora intanto, Bitcoin tutta la vita, perché è uno strumento più forte di Standard & Poor's 500 e questo sarebbe la prima cosa evidente dal grafico, però è anche un po' un ragionamento di natura superficiale, perché non è del tutto vero ragazzi, vi faccio anche capire perché. Non è del tutto vero intanto per un discorso anche legato alla struttura di questo trend, che è vero che è ribassista, ma ragazzi è anche vero che sembra girarsi e affievolirsi. Come vedete nel classico atteggiamento molto semplice, molto comune, che è della funzione logaritmica, poi insomma ragazzi si curva. Quindi è anche vero che c'è un trend di Bitcoin, ma potremmo anche dire che c'è stato un trend di Bitcoin migliore di S&P 500 per tantissimo tempo, ma non è così probabilmente che avverrà in futuro. Magari continuerà ad esserci un trend favorevole sui Bitcoin, ma non nella stessa pendenza, probabilmente non nella stessa entità. Un'altra cosa importante da considerare è che è vero che questo grafico indica che Bitcoin è più forte, perché ragazzi ve lo ripeto, scendendo indica maggiore forza di Bitcoin e minore di S&P 500. Però è vero ragazzi che ci sono queste fasi di rialzo, che significa che S&P è più forte di Bitcoin, questo significa che il mondo delle stocks viaggia meglio ragazzi, perché tra l'altro S&P 500 è un indicatore fatto da 500 titoli, quindi estremamente diversificato, ma se voi andate a prendere magari delle singole stocks o un paniere di stocks che sono state le top 10 del S&P 500, probabilmente sono salite decisamente di più anche di Bitcoin. Ci sono dei trend, vedete, consistenti, considerate che questo è un grafico settimanale, questi trend ragazzi durano anche abbastanza, vedete questo qui si è invertito solo in questo punto, è durato 700 giorni. 700 giorni di trend significa due anni ragazzi, due anni in cui le azioni sono andate meglio di Bitcoin, ed era ovviamente nel periodo 2013-2015. Ma l'abbiamo visto anche qui ragazzi, dove siamo ora in questa fase. Vedete, dalla 2017, quando la bolla di Bitcoin è scoppiata dal dicembre, il mercato delle stocks è andato meglio, quindi dal 2017, fine 2017, quindi da gennaio 2018, che ha investito nelle stocks e ha performato tendenzialmente meglio rispetto a un investimento in Bitcoin. Poi è chiaro ragazzi, se avete investito in S&P 500 vi ritrovate questo tipo di oscillazione rispetto a Bitcoin, ma se avete investito magari nelle top di S&P 500 avete fatto meglio, se avete investito però in quelle sbagliate avete fatto peggio. Questo è ovvio, perché ricordatevi che c'è sempre il problema di andare a trovare le stocks sul mercato americano. Però guardate quanto sta durando questa fase, l'abbiamo visto che la precedente era intorno alle 700 giorni, quindi 100 bar, insomma quasi due anni ragazzi. Vedete che qui siamo oltre, siamo andati a circa 900 giorni in cui il mercato delle azioni, delle stocks, gli investimenti azionari old, si comportano tendenzialmente meglio rispetto a Bitcoin. E io lo so ragazzi, non ve lo aspettavate questa cosa, perché a volte anche guardando i grafici ci sembra che non sia così, però poi i dati non mettono mai. Andiamo a guardare dove siamo adesso e cosa ci indicano gli indicatori di analisi tecnica. In questo caso, essendo questo un grafico derivato, ragazzi, non vi servono indicatori anomali o cose strane, usiamo una semplice media mobile. in questo caso io ho utilizzato quella a 50 periodi, perché 50 periodi sono quasi un anno, quindi è la media mobile ad un anno. Il mercato è sotto alla media mobile al 50, significa che ha un trend ribassista e sopra ha un trend rialzista. In questo caso, se io dovessi decidere come allocare le mie risorse, potevo fare così ragazzi, aspettare il break rialzista del S&P 500 contro Bitcoin e allocare quindi tutto, spostarlo sulle stocks, quindi sull'azionario. Quando poi Bitcoin mi va a favore, quindi quando c'è un break della media dalla breakdown, quindi dalla parte bassa, a quel punto io decido di allocare di nuovo su Bitcoin. In questo caso però, cosa succede? Come sapete bene, c'è il problema delle medie mobili che quando sono in congestione, cioè quando siamo in barra, quando non c'è trend, la media mobile si ferma e non serve a niente. Possiamo vedere anche un quadro generale della situazione che è meravigliosa da vedere, cioè questo tipo di figura che ragazzi questa è una figura, chi la conosce in analisi tecnica lo sa, di continuazione del trend. Quindi tecnicamente nel medio-lungo periodo Bitcoin dovrebbe continuare il suo trend di forza contro il mercato azionario e avrebbe già fatto una buona fase di riposo ragazzi, estremamente importante, oltre anche la precedente, di parecchio tempo, sono quasi tre anni, quindi in questo caso questa figura di continuazione del trend è importante da considerare perché se dovesse avvenire un break di questo livello qui, probabilmente Bitcoin potrebbe iniziare di nuovo una bull run. È importante anche prendere in considerazione questo livello di supporto che è qui, questo livello di supporto e il prezzo è irrilevante ragazzi, 0,2 ovviamente per Bitcoin vale molto di più dell'S&P. Questi sono barre settimanali ragazzi, quindi un breakout di questi livelli è da considerare validato perché non sono candele di 15 minuti, sono candele settimanali e sono molto significative. Questi sono i due livelli da monitorare, questo qui e poi questo minimo, però questa fascia ragazzi è una fascia molto buona anche per assumere posizioni per un trader. Dobbiamo anche considerare il fatto che in questo momento vedete la media mobile oscilla su se stessa quindi ci sta indicando ragazzi una barca di congestione. In questo momento stare su S&P o su Bitcoin è un po' la stessa identica cosa. Va bene allora conclusioni generali del video. Il momento in cui dovesse avvenire un break di questa figura di continuazione del trend se dovesse avvenire una rottura qui ragazzi Bitcoin potrebbe assumere molta forza. Io terrò questo grafico sotto stretta sorveglianza ovviamente lo pubblicheremo se dovesse esserci qualche news anzi ragazzi facciamo anche un'altra cosa metto subito immediatamente un bellissimo alert. Ve ne siamo arrivati alla fine fatemi sapere voi cosa ne pensate di una cosa del genere avete visto quante informazioni escono fuori con i dati oggettivi. Lasciatemi un mi piace iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto come sempre noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao!